Se vogliamo parlare di come sono andate le cose, secondo me anche un pareggio sarebbe stato ingiusto. Insomma, non ha senso interpretare una vittoria che non ci siamo affatto meritati sul campo. Secondo me la squadra stasera ha giocato in maniera discreta, eravamo forti fisicamente, ma insomma in questo tipo di analisi non si può far entrare anche la fortuna. La disposizione animica anche, la suerte non è un elemento che si possa incluire in questo tipo di analisi. L'unico cammino è osservare gli sbagli che hai fatto, analizzarli con calma e poi trarre le conclusioni, lavorare poi per far sì che non si ripetano. A parte questo bisogna essere calmi e pazienti per rispondere al meglio agli imprevisti. Tutti noi, dai giocatori allo staff tecnico, passiamo molto tempo a studiare queste cose. Perdere è talmente doloroso che ci motiva a lavorare davvero molto duro per evitare di essere ancora sconfitti. Tutti noi sempre stimolano per aiutare la derrota e ci attiva per evitare tutto quello che ci danni, però bene.